Sì, è stato un cammino in questi anni dove sono stati toccati diversi temi. Per esempio il primo era il Signore, vogliamo vedere il tuo volto. Il secondo anno, il Signore da chi andremo, perché fatiche si cominciavano a vedere. L'anno scorso si parlava del lievito e della pasta. Quest'anno il tema è incentrato molto sulla vocazione. Dove nascono le vocazioni? Le vocazioni nascono nelle comunità, nelle parrocchie. Non dipendono solo dal prete o dal vescovo, ma da tutti. Tutta la comunità, iniziando dalle famiglie, dai catechisti, dall'oratorio, dagli educatori, devono rendersi conto che se si vuole far crescere la Chiesa bisogna fare e dare il proprio contributo.